Musica Annullati gli interrogatori di Freddy e Deborah Assorgato, il magistrato ha ascoltato in carcere la tabaccaia Manuela K con nessuna indicazione per ritrovare il corpo di Isabella. Consegnato oggi il sigillo della città alla memoria di Rosario Sanarico, il SUV della polizia morto nel ricerche del corpo di Isabella 90 commossa la vedova ai figli. Domani è la festa della donna, Sindaco Bitoncio interviene sul tema e dice l'Islam considera la donna un essere inferiore, noi non lo accettiamo. Alla vigilia dell'8 marzo, imprenditori e sindacati firmano un accordo per promuovere la formazione contro la violenza nei luoghi di lavoro. Buona affluenza alle primarie di coalizione del centro-sinistra per le amministrative di Abano Terme, vince la civica Monica Lazzaretto sconfitta per il candidato del PD. Nella sua abitazione dava alloggio ad una decina di nordafricani, quasi tutti i clandestini, deliti allo spazio, denunciato a 45 anni padovano, sequestrata eroina e cocaina. L'università di Padova sotto esame, il nucleo di valutazione estende il rapporto sull'attività dell'Ateneo e lo conferma tra le eccellenze d'Italia. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Si è concluso nel carcere di Verona l'interrogatorio di Manuela Cacco, ascoltata oggi dalla magistrato che invece ha annullato gli interrogatori per i due fratelli sorgato. Purtroppo la Cacco non ha dato nessuna indicazione per ritrovare il corpo di Isabella Noventa. È iniziato alle 15 ed è durato poco più di un'ora l'interrogatorio nel carcere di Verona di Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, accusata di aver preso parte al delitto di Isabella Noventa avvenuto la notte del 15 gennaio. Provata dalla detenzione, la Cacco in questo periodo ha perso 6 chili. Quella sera maledetta ha confermato di essere stata lei a vestire il giubbotto bianco e a recitare la parte di Isabella camminando per le strade di Padova. Ha dichiarato di essere stata spinta a farlo da Freddy senza però sapere il reale motivo della messa in scena. La tabaccaia ha ribadito davanti al magistrato di essere arrivata più tardi nella villa di Sorgato in via Sabbioni. Manuela è stata la prima del trio diabolico a fare delle emissioni durante il lungo interrogatorio che il 16 febbraio ha portato ai tre arresti. Oggi, nonostante Freddy abbia detto che la morte di Isabella è stato un incidente durante un gioco erotico, Manuela è arrabbiata con l'uomo che ama da anni. Tuttavia, lei, l'amante folle di gelosia nei confronti di Isabella, non ha rivelato particolari utili per portare a ritrovare il cadavere della 90. Revocati invece gli interrogatori dei due fratelli Sorgato. Questa mattina l'avvocato di Freddy si è recato in carcere e qui ha preso che l'incontro con il pubblico ministero Giorgio Falcone era stato annullato dal magistrato. Forse alla luce della rinuncia al riesame per i provvedimenti cautelari del camionista ballerino della sorella Deborah. Non è stata fissata una nuova data, molto probabilmente si vuole attendere il risultato delle tracce ematiche trovate nella cucina di Freddy Sorgato nella sua villa 90 Padovana in via Sabbioni. E oggi il sub della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, morto durante le ricerche del corpo di Isabella 90, è stato ricordato con un minuto di silenzio all'apertura del Consiglio Comunale di Padova. Dovremmo avere le immagini di quanto è avvenuto, eccolo qui, questo pomeriggio, alla presenza del sindaco Bitonci, c'era la vedova con i due figli a cui sono stati consegnati il sigillo della città alla memoria. Moglie e figli commossi hanno preso parte della cerimonia insieme al questore della città di Padova. Bernabè, il comune invece di 90 Padovana, pensa di dedicare un cippo commemorativo da posizionare sull'argine della Brenta vicino alle chiuse dove Rosario Sanarico ha perso la vita lo scorso 19 febbraio. E al Consiglio Comunale di oggi c'è il sindaco Bitonci, ha risposto ad una interrogazione riguardante i controlli alle cucine popolari. Interrogazione rappresentata da un consigliere della lista civica Bitonci, sindaco. Bisogna parlare con i residenti che sono contenti di questi controlli perché alle cucine popolari ci vanno delle persone che hanno a che fare con la giustizia. Questa è la realtà, ci sono delinquenti e spacciatori abituali e questi non devono entrare nelle cucine dove ci devono andare solo chi ha veramente bisogno. Così il sindaco Massimo Bitonci durante il Consiglio Comunale in corso in queste ore. Giusto identificare chi vale cucine popolari. Vi continuiamo a riproporre il quesito del Tg Linea Aperta, visto che in molti avete scritto. continuate a farlo inviando un sms al numero che vedete in sovraimpressione o scrivendo una mail a padovacchiocciolareteveneta.it Ma oggi il sindaco è intervenuto sul tema della donna. Domani l'8 marzo, festa delle donne, duro attacco dei Bitonci contro l'Islam che dice considera la donna un essere inferiore. Questo noi non l'accettiamo, dice. Attenzione alla cultura che viene da oltre il Mediterraneo, cioè la cultura islamica è una cultura che non ci appartiene e che considera le donne degli esseri inferiori rispetto ai maschi. Attenzione a non tornare al Medioevo, per cui teniamo le antenne molto alte per verificare che questa cultura invece non si insedi nella nostra società. Così il sindaco Bitonci alla vigilia della festa della donna interviene pesantemente sul tema del ruolo della donna appunto nella cultura islamica. Usa parole taglienti, il primo cittadino che coglie l'occasione anche per sottolineare come nella cultura occidentale la presenza della componente femminile nella società sia positivamente sempre più pesante e determinante. Noi possiamo dire che questa parità è ormai diventata una realtà. Lo vedo nella pubblica amministrazione, lo vedo nella sanità, lo vedo nei tribunali dove ormai i giudici donne sono in maggioranza rispetto ai maschi. Insomma stiamo andando verso quei paesi forse molto più civili di noi che sono al nord Europa. Quello che manca, e qui la polemica anche a livello centrale, a livello governativo, è che le donne hanno bisogno di sostegno. Nel senso è facile fare riferimenti come la Svezia, la Norvegia o la Finlandia e dopo invece le nostre donne che hanno famiglia devono dividersi tra lavoro e famiglia senza avere nessun aiuto. Quindi lo diciamo a Renzi e a quelli che domani o oggi sbandiereranno insomma la parità tra uomo e donna che facciano qualcosa invece veramente per le famiglie. Più di 300 multe al giorno per eccesso di velocità. Da poco più di un anno sono attivi gli autovelox sulla tangenziale di Padova e da allora sono state elevate dalla polizia locale ben 130.363 sanzioni nei confronti di chi ha superato i limiti. Una stangata per gli automobilisti che però vale alle casse del comune di Padova quasi 12 milioni di euro per la precisione 11,7. Per ora però ne sono stati incassati solo la metà 6 milioni e 600 mila euro da Palazzo Moroni. Tutte le cifre sono riferite appunto ai passaggi avvenuti sotto gli occhi elettronici che sono attivi dal 2 febbraio dell'anno scorso. Attivi in modo random ovvero in modo casuale durante la giornata. E a proposito di donne, nel 2015 sono state 1681 le donne accolte nei centri antiviolenza del Veneto. Alla vigilia dell'8 marzo i sindacati e i rappresentanti degli imprenditori Padovani hanno firmato un accordo per mettere in campo delle risorse per prevenire la violenza nei posti di lavoro. Padova si conferma regina indiscussa del Veneto per numero di manager donne. Nella nostra provincia ogni 10 capitani d'azienda 3 sono donne. Numere diffusi da un rapporto della Camera di Commercio alla vigilia dell'8 marzo. Purtroppo però ancora oggi sono molte le donne vittime di violenza non solo fisiche ma anche psicologiche nel posto di lavoro. Per questo Confindustria Padova e i sindacati di CGL Cisle e Will hanno firmato un accordo per prevenire gli abusi nei luoghi di lavoro. Però soltanto una piccolissima percentuale delle donne denuncia queste molestie ricevute negli ambienti di lavoro. Il più delle volte le donne abbandonano il lavoro per autotutelarsi. E questa non è sicuramente la via giusta perché le persone abbandonate non hanno altra scelta. Noi dobbiamo costruire degli strumenti di protezione sociale perché il costo che ne ha la società dall'abbandono del lavoro delle donne è il murme. E poi c'è il danno personale e morale che le donne subiscono da questo tipo di violenza. L'accordo punta a incentivare l'assistenza ma anche la consapevolezza. Deve essere sostenuta infatti la formazione per i datori di lavoro e per i dipendenti e deve essere promosso il sostegno legale e l'ascolto per le vittime. Il rispetto per la persona è imprescindibile perché l'azienda è come una comunità ha sostenuto il presidente di Confindustria Finco. Si tratta del recepimento di un accordo europeo per la tutela dei lavoratrici e dei lavoratori nelle poste di lavoro. Primarie di centro-sinistra ieri anche ad Abano Terme il PD perde e a vincere è una donna Monica Lazzaretto. Le primarie di centro-sinistra ad Abano vedono trionfatrice l'unica donna. Monica Lazzaretto della civica Cittadini per il cambiamento batte il candidato del PD Francesco Pozza e l'indipendente Guido Marin. Una vittoria netta per l'insegnante 55enne che stacca con il suo 55,5% di consensi il giovane esponente Dem che raggiunge solo il 39%, 5% invece per l'outsider Marin. Per il PD una sconfitta che però non compromette l'impegno per la campagna elettorale alle amministrative di primavera. Il nostro candidato ha fatto un ottimo risultato, Francesco Pozza è una delle migliori risorse che mettiamo a disposizione del candidato sindaco disegnato Monica Lazzaretto. Il PD alle primarie nel suo DNA comunque vadano. Abbiamo fatto la nostra corsa, Lazzaretto è una persona che abbiamo stima e adesso insieme da subito andremo avanti per sconfiggere Luca Claudio e offrire ad Abano una pagina di legalità e di pulizia. Il dato da considerare è la buona affluenza di due seggi allestiti per le primarie. Hanno votato 1467 persone. Un ottimo risultato per l'affluenza, è un'affluenza eccezionale direi, ampiamente sopra soglia rispetto anche alle media nazionali e questo è l'unico dato, secondo me il vero dato che merita di essere sottolineato. Ad Abano, anche immagino per le politiche che non hanno lasciato spazio in questi anni alla partecipazione, all'espressione della cittadinanza del sindaco Luca Claudio, c'è una grande voglia di cambiamento che si è espressa ieri nelle urne. Resta fermo l'impegno e la partecipazione alla coalizione, anche se al momento non si parla ancora di un ticket Lazzaretto Pozza. L'importante è veramente dare ad Abano un futuro diverso, di sviluppo e di legalità. Ancora una notizia di cronaca, ospitava abusivamente dei clandestini nella sua abitazione, è stato denunciato un padovano di 45 anni, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La polizia nella sua casa di Via del Cristo, nel quartiere di Volta Barozzo, ha scoperto ben nove nordafricani, uno di loro stava cercando di nascondere quasi 70 grammi di droga tra eroina e cocaina. E' stato arrestato e un marocchino con precedenti per spaccio. Altri tre tunisini invece sono stati espulsi e portati al CIE di Torino. L'Università di Padova sotto esame, il nucleo di valutazione ha steso il rapporto sull'attività dell'Ateneo, mettendo sotto la lente di ingrandimento i punti di forza e le fragilità della nostra Università. Non è 30, però è abbastanza vicino, vuol dire però che ci sono margini di miglioramento, cioè la valutazione è senz'altro positiva. Il nucleo di valutazione promuove l'Università di Padova e le attribuisce un voto molto alto vicino al 30. L'Ateneo fa bene in molti campi, il grado di soddisfazione degli studenti è elevato. Sul fronte della ricerca si pone i vertici, in ambito nazionale il bilancio è in equilibrio ed è garantita la stabilità finanziaria. La ricerca scientifica è un ambito in cui sicuramente siamo molto attivi, molto produttivi in tutti gli ambiti del sapere e questa forza la dobbiamo mantenere. La didattica, che poi è rispondere al nostro paese, ai nostri giovani nella loro richiesta di alta formazione, è un ambito nel quale i risultati sono molto buoni. Accanto ai punti di forza dell'Ateneo Patavino, il rapporto evidenzia anche delle criticità. L'equilibrio di genere, ad esempio, non è rispettato. Padova ha una componente femminile nel corpo docente che è decisamente più bassa di quella di altri grandi Atenei italiani e quindi deve sicuramente provvedere. Come ci sono alcune criticità che riguardano i processi organizzativi, però tutti aspetti che possono essere affrontati perché i fondamenti, quelli che si chiamano i fondamentali, cioè gli aspetti più importanti, ci sono e sono positivi. Dal quadro generale, insomma, emerge chiaramente che l'Università di Padova continua a meritare la sua posizione di eccellenza nel sistema universitario italiano. Cosa diamo? Quindi un 28? Sì, almeno. In chiusura allo sport, schiacciante vittoria per il Padova. Ieri in trasferta a Mantua, gli uomini di Mister Pillonano 23 a 1 per i biancoscudati, sono andati in rete a Finocchio per ben due volte e poi Mazzocco all'inizio della partita. Ci sono stati però degli scontri tra i tifosi della tribuna a fattori e quelli del Mantua. Dove sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Buone notizie anche per la pallavolo padovana, la Tonazzo e Spugna Modena. Dopo 11 anni è di nuovo ai play-off. Il 3-1 in trasferta vale così il settimo posto. I quarti di finale sono previsti giovedì 10 marzo, ancora una volta a Modena. Questa era l'ultima notizia e vi ricordo che questa sera a partire dalle 21.05 andrà in onda il talk show Iceberg, utero in affitto e la questione libica tra i temi al centro della discussione. TG Padova invece termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata in compagnia di Rete Veneta. Arrivederci. Grazie a tutti.